Non c'è se che il muratore finisca di battere? Battere non in quel senso BASTA! Ha finito QUARTO! ANGORA! Mettete like per il muratore! Ma poi i muratore non finiscono alle 5 di lavorare Eh, questo fa gli straordinari Li prendiamo! Dai! QUARTO OGGETTO A STORTA! La vediamo con questo! Quindi, iscriviti! Metti mi piace! Che così noi cuore grande! Un saluto nerd! Da Karo e Susi! Ragazzi, oggi nuova challenge! La challenge di oggi è... Cosa ho in mano? Niente! Che vedi in mano? In che cosa consiste la sfida? La sfida consiste nel vendere l'avversario Far toccare con le mani L'oggetto in questione E l'avversario dovrà, ovviamente in vendato Indovinare che cosa ha tra le mani Ragazzi, mi raccomando per questa sfida Arriviamo a 10 like Così il prossimo video Faremo indovinare a Susi Che cosa ha in mano Non me ne è niente Quindi ragazzi, 10 like Per il prossimo video Dove io farò ben d'anno Siete pronti per questa sfida? Siete pronti? Se siete pronti, battete un like Allora, ragioniere, che fa? Batti? Ma... Mi dà del tu? No, no, dicevo Batti lei? Ah, congiuntivo Sì Aspetti Sì, battete un like Iscrivetevi Condividete Che io lo vedo Guardalo quello che non mi è iscritto Guardalo Senti Non ti vergogni Tu che non sei iscritto Ma come ti permetti? Quindi magica sciarpetta Lossa che si abbina Alla maglia Del nostro Kawas Trottoliamo Vendiamo Il nostro Tragazzuolo Tragazzuolo Non lo vedo Ma rifaccia il piacere Senti Oh, adesso indovino Quanti sono Vendiamo Quanti sono Dilettissimi fili Benedizia nostra Tu per vos Descendat E per septem Diez Maniat Tre No Primo oggetto Che cos'è? Che cos'è? Allora, allora, allora Ai piedi Questi sono i piedi Giusto Asservato Un beluche E che beluche Allora, un delfino Sei sicuro? Toccalo bene Toccalo Panca Panca Ma è uno Ti sto dando un indizio È uno Ne sei sicuro? Che rumore magico Che cosa sarà un male Io lo so Il mio tesoro Il mio tesoro Il mio tesoro Come dici tu Allora, qua ci sono i piedi Ma dimmi, sì, no? Sì, sì, sì Sono i piedi Sono i piedi Questi sono le mani Le mani Le... Come si chiamano le... Le mani Le... 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 Che cosa ho in mano? Le mani Le branche Come si chiamano? Le branche Ah, un pinguino, eh Un pinguino Hai perso, hai perso Tempo scaduto, hai perso Hai perso Spendati, spendati Che ti faccio vedere che cosa Spendati Perché sono Coca-Cola Spendati È un aga perotto Con il suo... Con il suo pulcino Vabbè, però vicino Ci sono andato pinguino Pinguino con le branche Commentate Tim Carowat Per la sua intelligenza Metti like Con le branche E iscriviti Guarda, te lo dice pure lui Iscriviti Prossimo oggetto Che cos'è? Un portacellulare A forma di? Eh, l'ho aperto Ah, eh, eh A forma di... Metti like per quando A forma di Metti... Metti dislike Quando si... No Te No Sì Che già da più Stiamo facciando A forma di poltrona Brava E vai Basta non disbandare Non c'è motivo Metti like Mi hai condominato Prossimo oggetto Vediamo in camera Che cos'è Questo lo snobbini Secondo me Sembra... Anche? Che odore fa? Di niente Ah, non male Grazie Sono delle corne Che cosa sono? Delle corne Poco fa il pinguino Con le branche Adesso ragazze Delle corne Le mani Le mani sono queste Le mani Di chi? Le mani Di chi? Le mani Di chi? A te lo chiedo Per colpa Di chi? Ti, ti, ti Ti, 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 ti Ah, ma Ucci, ucci Serva a qualcosa Certo che serva a qualcosa Ti do un indizio Questo oggetto lo siamo soprattutto noi ragazze Ah, ho capito Quello che si mette nei piedi per fare lo smalto Come si chiama? Non lo so Sei una schiaffa Comunque mettete like perché sarà troppo forte Secondo oggetto indovinato Quarto oggetto Che cos'è? Facciamolo vedere in camera Ah Vabbè questa è facile Un motore Un motore Che tipo di motore è? Eh, che ne so Io il modello E certo Lo dovresti capire Lo dovresti capire Una Vespa Adesso è Cos'è? Eh, vai Quinto Quinto Che cos'è? Qua c'è una cerniera Un motore Un motore Qua è quello Per lo Pendere Un Allora Lo so precisamente cos'è preciso Addirittura Sì Metti like Perché ho già indovolato Ma se ne me lo hai detto Metti like sulla fiducia No Tim Su sì Ribellatevi È palesemente Un portacchiavi A forma di scarpa 92 minuti di applausi Che scappa è Che scappa è Che scappa è Che numero è Che scappa è Che numero è Metti like E riscriviti Sesto E ultimo Accetto Che è Cos'è Che cosa Che ti morte Stai attento Che ti puoi fare male Allora perché me l'hai dato Che cosa ti fai male Allora È una forbice No Non è una forbice Che cos'è? Una forbice Non è una forbice Non l'hai indovinato Non l'hai indovinato Non l'hai indovinato Aspetta Non l'hai Hai detto che è una forbice Non è una forbice Quindi hai perso E che cos'è? Questa di qua È un piegaciglie Sì Che ne so io Guarda 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 Quindi ragazzi Anche per oggi La sfida si è conclusa Con caro A tutte le tette No Vincente Ne ho indovinato 4 su 6 E l'ultimo era difficile Certo Certo 10 like Che così facciamo Per i video stossi Sì Non vedo l'ora È tu che non sei iscritto Iscriviti 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 È grattis Quindi ragazzi Alla prossima Challenge Alla prossima Alla prossima Alla prossima